Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Il governatore campano Vincenzo De Luca è stato assolto dai giudici la seconda sezione penale del Tribunale di Salerno nel processo Crescent dal nome del complesso immobiliare sul lungomare. La sentenza è stata letta dal presidente Vincenzo Siani dopo circa otto ore di Camera di Consiglio. L'ex sindaco era accusato di falso ideologico abuso d'ufficio e reati urbanistici. La procura aveva chiesto due anni e dieci mesi, scongiurata quindi la sospensione dall'incarico che sarebbe scattata per gli effetti della legge Severino. Sono stati legali Paolo Carbone e Andrea Castaldo a comunicare al governatore della campania Vincenzo De Luca la notizia dell'assoluzione nel processo. Lo abbiamo già comunicato, ha detto Castaldo parlando con i giornalisti presenti, ed è contento di questo risultato. In questo momento è importante che la giustizia abbia fatto il suo corso, avevamo fiducia. Per Castaldo con questo dispositivo è stato provato quello che si era sempre cercato di dimostrare con forza ed impegno, e cioè che non esisteva un disegno criminoso. Gli atti sono stati sempre fatti per il bene della città di Salerno. La vicenda crescente è una vicenda che realizzava interesse pubblico, è una pagina della storia salernitana che si chiude in modo positivo. Sono stati inoltre tutti assolti gli altri 21 imputati a Salerno nell'ambito del processo crescente, e come ricordiamo prende il nome dal complesso immobiliare realizzato sul lungomare.